Nel 2020 l'Igé non si ferma e con Simple Agency realizza l'Igé Wanderlust Tour, un viaggio spettacolare tra le bellezze italiane di Napoli, Roma e Taormina. Alfa, giovane promessa della scena musicale italiana, fa da Cicerone durante questa avventura piena di colpi di scena. Ma non è da solo, lo accompagna la Ligé Musk, il nuovo misterioso Brennambassano